Eccola! Allora, io non per inferire perché siamo tutti italiani, ma questa a Milano, la soglia! T'hanno fatto un regalo? A me? Personalizzato. Personalizzato. E poi poi arriva dal nome tuo. Che è una contravenzione? I punti? Che so? Tutto. Quello che ci può mettere, ci può mettere. Davvero? Dalia, vuoi portare il pa... T'è buona. Basta. Voglio dare il mio contributo stasera. E io, dissi, provvederò a voi. Vieni, Luca, a non aver paura. Fatà, mi dai due patate. Ce l'hai ancora nel piatto! Dobbiamo ancora mangiarla tutti. Ma le dì, ce l'hai ancora nel piatto! Non solo, allora. Scusate se hai mangiato. Prima mangiate voi. Poi, se avanzano, me li mangio io. Dai, si mangia Cinzia? Sì, è pronto. Ah, vedo un bel... Finalmente. Un bel primo piatto. Cosa è che si mangia? Dai, dai, dai. Allora, abbiamo fatto delle trenette con della crema di verdure all'olio di sedano e semi di...